Sono Monica Quattrini, lavoro in CRN per l'interior design. Le caratteristiche principali di questa imbarcazione di 73 metri, ghialla, sono i grandi spazi, l'unico punto di forza è la sua altezza, i grandi materiali, la combinazione e la ricercatezza nei dettagli. I marmi, i pellami e i metalli si fondono insieme per dare uno stile molto minimal e contemporaneo. Altra caratteristica non meno importante è la beach club, la prima volta in cui abbiamo uno spazio di più di 120 metri quadrati di area benessere, spa con gym, sauna e una zona bar.